Da più di un secolo sul territorio, macchini ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti e rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Riosalso di Tavuglia. Macchini ceramiche, sempre al vostro servizio. Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti. Pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi. Cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Hai visto quante novità al Conad di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti. Per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conad di Montecchio! Cari amici di Insieme a Canestro, buonasera e benvenuti alla 14esima puntata di questa quarta stagione della trasmissione che si occupa, come sapete, dell'AVL principalmente, ma anche un po' del mondo della pallacanestro. Questa sera siamo molto contenti di avere due ospiti particolari che vi presenteremo tra poco. Intanto vi ricordo dove potete seguirci in diretta sul canale 80 di Rossini TV, che è visibile in tutta la regione Mar, che poi sulla nostra pagina Facebook, in streaming sulla nostra app e anche sul sito internet di Rossini TV. Quindi avete tanti modi di seguirci anche nelle repliche che poi vanno in onda fino a domenica. Grazie ai nostri sponsor, come sempre, che sostengono la trasmissione, quindi Conad Montecchio, Macchini Ceramiche e Banca di Pesaro. Questa sera, a parlare con noi di basket, abbiamo l'assistente di Meosacchetti, Luca Pentucci. Ciao Betta, ciao a tutti. Ciao. E l'ex giocatore della VL, attuale vice allenatore del Loreto, Roberto Bob Terenzi. Ciao, buonasera a tutti. Quindi due pesaresi doc, davanti a una settimana molto impegnativa, e quindi era giusto sapere, avere qualcuno che sa di preciso dove stiamo andando a parare. Poi ne parleremo nei dettagli, perché adesso passando la parola a Giovanni Zida, che anche quest'anno vi indicherà come mettervi in contatto con noi per porre domande su WhatsApp e anche rispondere al contest che lanceremo tra poco e che mette in palio due biglietti per la partita di domenica prossima contro Brindisi. a chi risponderà per primo, vedrete che andremo a toccare proprio l'argomento spareggio-salvezza, come stiamo chiamando questa partita con la Epi Casa. Vai Giovanni. Buonasera Betta, buonasera agli ospiti in studio, buonasera a tutti i telespettatori. Come sempre ricordo il numero WhatsApp 370-366-7210. Vi ricordo inoltre la diretta Facebook di Rossini TV. Iniziamo col contest di oggi, per avere due biglietti per la partita contro l'Epi Casa Brindisi di domenica 28 gennaio alle ore 18. Il contest di oggi riguarda il primo marzo del 1980 della Scavolini che giocò e vinse uno spareggio-salvezza che cambiò la storia del club. Vogliamo sapere quindi il risultato di quella partita contro Mestre e quanti pullman di tifosi seguirono questa grandissima trasferta a Milano. Bene, io penso che molti di voi, anche se non erano nemmeno nati, sanno la storia di questo mitico spareggio-salvezza nel quale giocò anche Roberto Terinzi. Adesso non possiamo dire né il risultato, sappiamo che abbiamo vinto, quello lì si può dire, però il risultato lo dovete indovinare voi e dovete indovinare anche il numero dei pullman che negli anni è cambiato sempre, no? Perché qualcuno diceva erano questi, no? Stasera vi daremo il numero esatto perché sappiamo quanti erano i pullman numerati con il cartello che partirono con un serpentone da Viale Trieste in una giornata indimenticabile che cambiò davvero la storia del club, Bob. Parliamo un attimo di questo perché è veramente bello. Perché da lì, in quell'estate, Scavolini disse a Palazzetti io non voglio più soffrire così. No, prima la partita disse se vinciamo faccio la squadra per vincere, se perdiamo facciamo cercare solo i giovani. Quindi poi il risultato ha dato il risponso anche alle sue scelte, quindi alla fine sono arrivati poi il Magnifico, il Silvester, si è costruita la squadra che poi vince gli scudetti alla fine degli anni 80. Esatto. Quello spareggio-salvezza pose le basi per diventare grandi. Ma la cosa incredibile che molti non ricordano, ne parlavamo prima della trasmissione con Roberto, è che per arrivare a quello spareggio-salvezza la Scavolini dovette andare a vincere a Mestre la partita che costrinse la Superga poi a disputare lo spareggio, altrimenti sarebbe finita lì con la retrocessione. Ecco, quella partita lì è stata molto più tosta da vincere. Certo, e poi giocare in campo loro, con tutti i libri del pubblico, quindi è stata una cosa molto molto difficile, però noi avevamo Gioppese che faceva e non faceva. E disfaceva, come appena era. E disfaceva, quella volta lì si mise in testa di giocare una buona partita e quindi si pesse vincere quella partita anche nel campo verso. Poi si perse, nella settimana che conduceva lo spareggio, non lo trovavate più. Quella è storia. Ma com'è la storia vera di quella? Dov'era Giù? Io mi ricordo solamente che noi eravamo di fianco al Palazzo Sport Vecchio, dove si partiva alle 9 di mattina e aspettavamo, aspettavamo, 9, 9 e mezza, 10, non arrivava, allora diceva partite, scansi di partite, che poi lo troviamo. Noi arrivavamo a Milano e a Milano nella tarda serata arrivò, ci dissero che l'hanno trovato in mezzo a un fosso, in una macchina, non so dove era, ubriaco, che cosa. Noi, per capire lo spirito che avevamo, avevamo un po' di timore per la partita giorno dopo, però dopo ci siamo rimboccati le mani che abbiamo fatto una buona partita e l'abbiamo vinta, anche nonostante lui. Lui fece 4 punti e finì. Sì, due stoppate e poi finisce lì, 5 falli è uscito, quindi l'abbiamo vinta anche senza di lui. È stato bellissimo. Molto bello, certo. Tu dici gli 80 Pullman, la carovana, noi li abbiamo visti uscendo dalla… Che non sono 80, ve lo dico, quindi dovrete indovinare il numero esatto. Io l'ho buttata lì, cerco di forviare, però uscire da sottopassaggio, vedere tutta sta gente, ancora mi viene a pelle d'occa, tutta sta gente che ci ha visto uscire, è stata un'emozione grandissima, e poi dargli anche la vittoria è ancora più grande la cosa. Ma voi pensate che soltanto due anni dopo, quindi andando a giocare una finale Scudetto, praticamente nell'82, sempre a Milano, ma stavolta non per uno spareggio salvezza, ma contro il Billy, Pesano andò a giocare la sua prima finale Scudetto e fu seguita da 35 Pullman di tifosi, cioè meno tifosi per una finale Scudetto, anche perché ovviamente il palazzo era occupato dai tifosi di Milano, che per uno spareggio salvezza. Quindi ecco, per dire che a volte, e questo io lo faccio per caricare un po' l'atmosfera per domenica, giocare una partita decisiva per la salvezza può essere altrettanto adrenalinico che giocare una partita per lo Scudetto, perché comunque ne va del futuro della società. Per cui adesso ne parleremo della partita con Brindisi, intanto abbiamo creato un po' di atmosfera, voi scatenatevi a cercare il risultato di questo spareggio e il numero dei Pullman e intanto noi invece andiamo, facciamo un passo indietro e andiamo a domenica alla partita con Milano e Luca ti coinvolgiamo, adesso Andrea manda le immagini, vediamo qua la bomba di Maretto di Tabella che insomma a sto ragazzino ci sta piacendo molto. Anche stavolta una buona partenza, Luca poi la squadra si è sciolta col passare dei minuti, ora che avete aumentato i ritmi, sia in allenamento che col preparatore, c'è la speranza di allungare un po' questa autonomia a 40 che raramente abbiamo visto? Allora, la nostra stagione indipendentemente dal cambio di allenatore è sempre stata partita con grandissimi break positivi o negativi e ti dico facciamo un po' sempre fatica a trovare il motivo per cui facciamo queste cose molto positive alternate a cose molto negative. Per quanto riguarda la partita di Milano, come secondo me è stata anche la partita di Napoli, c'è stata una buonissima partenza, all'intervallo eravamo otto punti e se penso che ci sono stati tre palloni vaganti che avevamo già nelle mani, da cui loro hanno fatto canestro e qualche canestro nostro sbagliato, anche molto molto facile, quindi era una partita che potevamo essere sopra, poi gli ultimi due quarti come è successo anche per Napoli, un po' la condizione ci è venuta a mancare e quindi poi siamo calati contro una squadra comunque come Milano, se cali un attimo rientrava anche Schiltz e così ti spazza via. Non siamo stati fortunati perché Schiltz se c'è o non c'è cambia un po'. C'è, anche con Varese se c'è è meglio hanno giocato la prima con noi e diciamo che l'abbiamo anche abbastanza visto, anzi forse non l'abbiamo visto perché ci ha battuto sempre, però è lo sport, il mercato è sempre aperto in Serie A quindi in qualunque momento c'è. Ma senti Luca, prima tu hai detto questa cosa delle tre palle vaganti, io era una cosa che durante la partita ho notato parecchio, cioè sulle palle vaganti, non dico le palle recuperate perché tu puoi sbagliare un passaggio e l'avversario ti anticipa, ma proprio quando sprizzano così arrivavano sempre prima loro e questo ho notato che quest'anno è successo spesso, c'è una questione fisica, di volontà, di reattività, di voglia? Ci sono tantissime motivazioni, sicuramente la nostra non è una squadra reattiva, non è una squadra, comunque vedendo anche i singoli, nessuno dei nostri è così reattivo che per buttarsi sui palloni, ma è ovvio che c'è anche l'aspetto mentale, c'è l'aspetto di fiducia, c'è tanti aspetti che sono decisivi, quindi sicuramente la reattività vuol dire, ma bisogna poi arrivare, se non si arriva con le gambe, bisogna arrivare, per dire, Daniel Hachet ha fatto in Eurolega un tuffo pazzesco che lì non è una questione di reattività, lì è una questione che Daniel lo conosciamo, è il desiderio di andare a prendere quella palla, a un certo punto c'è la foto che lui è completamente orizzontale. Ma quella simbolo è stata, non so se vi ricordate, Mekadu che si butta sull'ultima palla per vincere lo Scudetto, c'è un giocatore che aveva vinto l'NBA, titoli a destra e a sinistra, però quella è mentalità, soprattutto in mentalità, e quindi anche questa è una componenta molto importante. Senti Roberto, una volta si ruotavano 7-8 giocatori, io ricordo la squadra anche dello Scudetto, con Bianchini fondamentalmente, il quintetto base, poi tre ottimi cambi dalla panchina, se il quintetto funzionava si poteva arrivare lontano anche in otto. Adesso i corsi ne vogliono almeno 10, se non 12. Com'è cambiato il basket dai tuoi tempi? È molto più veloce, è molto più fisico, soprattutto poi per le squadre che magari non fanno le coppe, e quelle che fanno le coppe hanno bisogno, perché comunque giocano anche 4 volte a settimana. Poi però anche per creare un'intensità di allenamento durante la settimana, perché se ti alleni contro i ragazzini fai fatica, puoi ritrovare durante una domenica nella condizione così di un botto, hai bisogno di allenarti a un certo livello, quindi la competizione anche durante l'allenamento è molto importante, mi sbaglio? No, no. E poi se hai più giocatori, uno magari una domenica o si fa male o fa falli, però sai, magari un altro giocatore di dieta che può prendere quel ruolo là. Adesso ci sono più possibilità, una volta prendevi gli giocatori ed erano quelli dall'inizio della stagione alla fine, adesso come dice giustamente, Luca, puoi cambiare, il mercato è sempre aperto, quindi se non hai uno, vedi che non ti è, ne prendi un altro, quindi sai, dice da voi, erano otto, di solito è due del vivaio. Due del vivaio, però ecco, la competitività di allenamento non era sempre così al 100%, questo è molto importante per preparare le partite, è fondamentale, per come ti alleni, poi giochi, non è che inventi niente poi la domenica quando vai a giocare. Infatti, volevo dirti, Luca, martedì appunto che siamo stati ammessi a vedere l'allenamento e la prima cosa che ho notato ho detto, beh, finalmente c'è una squadra, cioè c'è una squadra nel senso, 13 giocatori erano a disposizione di Meo, il tredicesimo è a Franche, poi il dodicesimo Stazonelli e l'undicesimo, ma ormai, per modo di dire, l'undicesimo Maretto, perché si muoveva in campo con una sicurezza ormai come i ragazzi, Maretto è un ragazzo interessantissimo, è un ragazzo che secondo me può avere tranquillamente un futuro in Serie A, perché è un ragazzo che fisicamente ha un fisico importante, conosce il gioco, lui l'anno scorso ha avuto questa esperienza anche dei campionati minori che secondo me l'hanno un po' anche smaliziato su tante cose e che comunque serve ai giovani, io sono molto dell'idea che i giovani devono andare a giocare, farsi le ossa, la categoria conta ma fino a un certo punto, ma devono stare in campo, giocare contro quelli di esperienza che sanno come prendere qualche botta, così, e quello lì è importante, Maretto è un ragazzo sicuramente interessantissimo, è un ragazzo che si è allenato sempre con noi al massimo e ti dico, forse c'è stato un po' poco coraggio all'inizio nel metterlo in campo, però si sa come funziona poi i risultati, le cose, bisogna avere anche un po' di coraggio, diciamo che a Meo non gli è mancato questo coraggio. E poi c'è una nota fondamentale, l'origine argentino, gli argentini sanno la garra, sanno la competizione interna, quindi non s'arrendono mai, questo nel calcio succede, anche nel basket, c'è un popolo orgoglioso che non molla mai, questo infatti anche noi abbiamo cambiato l'americano, lo straniero, con l'Oretto abbiamo preso l'argentino perché il coraggio vuole gli argentini perché sanno qualcosa in più dentro. È vero, anche un po' di fame forse in più rispetto agli americani. Sicuramente, sicuro. Ecco, appunto volevo dire, vedere in campo Bamford e McDuffie, cioè che ha riportato gli stranieri a 5, anche quando la gente mi chiede per strada come mai, cosa penso, perché la squadra non va, io ho solo ricordato che comunque dal 29 dicembre voi avete giocato con tre stranieri, contro squadre che ne schierano 5 o anche 6. È una disparità numerica, cioè non è che stiamo parlando di ipotesi, stiamo parlando della realtà. Mi collego anche in questa cosa degli allenamenti del numero di giocatori, cioè noi oltre all'infortunio di Bamford ma ci ritrovavamo anche nell'enamento in una condizione di non poter spingere tanto perché ci mancavano i giocatori, l'enamento che questa settimana che siamo addirittura 12-13 comunque puoi spingere, non guardi in faccia nessuno, vai, spingi e questo può essere determinante anche per ritrovare la condizione. Sai, io sento dire la condizione ma la condizione non è solo un ragionamento del preparatore fisico, di Roberto che è un'eccellenza del basket italiano, ma è una questione anche di allenamento, di condizione di allenamento, quanto spingi in allenamento perché quello che spingi durante la settimana poi spingi durante le partite. la benzina si mette in settimana per poi bene, allora adesso andiamo a parlare del nuovo giocatore Andrea ti prego di mettere in onda ecco questo è McDuffie durante le visite mediche con il dottor Massimo Mancino ma sta facendo le prove anche il dottor Mancino può darci qui lo vediamo con la maglia di Napoli un giocatore che ha delle caratteristiche particolari caviglie molto esili anzi quasi quando l'ho visto la prima volta ho detto mamma mia Roberto Venerani mi ha detto mi ha ricordato un po' nelle movenze e anche nel fisico un po' James White magari forse così forse un po' più magrolino che cosa ti ha colpito di lui questi giorni guarda lui è un giocatore di qualità che conoscevamo c'è tanto anche quando poi ha giocato contro di noi con Napoli comunque poi il mio lavoro è anche quello di scoutizzare molto bene gli avversari quindi l'avevo scoutizzato anche lui è un giocatore di qualità che ha punti nelle mani è un'ala che però ha uno contro uno si può creare un vantaggio si può creare un tiro infatti vedete qui che tira da tre punti poi l'abbiamo visto fare anche altre cose si si può giocare nonostante che giochi da numero 4 può giocare anche da numero 3 può giocare le uscite quindi anche movimenti da guardia diciamo così è un giocatore di qualità che ha questo fisico veramente la prima volta che l'abbiamo visto secco secco sembra quasi non avere i polpacci però alla fine quando vedi quando corre salta a rimbalzo a rimbalzo è uno che comunque ha queste gambette che salta molto rapido fare anche due salti che sono condizioni abbastanza importanti quindi la sua fisicità in tutto il campo ci potrà dare una grossa mano perché noi diamo nelle ali un giocatore così non l'avevamo senti potrà giocare da tre oppure potrà giocare Ford anche da tre che è già stato utilizzato da voi qualche volta guarda adesso sicuramente possono giocare insieme rispondo in un altro modo possono giocare insieme e Quincy se vi ricordate la partita con Sassari le migliori difese le ha fatte su Jefferson playmaker perché Quincy ha grandissime qualità difensive e può tranquillamente marcare gli esterni quindi do una risposta ad effetto che sicuramente difensivamente probabilmente è Quincy che andrà a marcare gli esterni così anche se poi diciamo che la palacanestro di Meo che è molta fantasia molto dove i giocatori devono essere veramente confidute devono giocare con fiducia essere anche abbastanza liberi ma veramente dare l'anima in campo diciamo il discorso di ruoli tre, quattro secondo me dice poco senti Roberto alla fine è stato preso un numero quattro è il giocatore che serviva o comunque avresti puntato su un esterno nonostante il rientro di Bamford perché all'inizio quando Bamford si è fatto male si andava per una guardia adesso giusto logicamente dicevamo che se prende un esterno poi gli italiani hanno fatto la scelta di avere gli italiani esterni non l'avrebbero giocato quindi secondo me è giusta la scelta è questa perché comunque andando a prendere un altro esterno c'è già Bamford prendendo un altro esterno straniero poi gli altri stanno a guardare quindi per me la scelta sconti tambone ma allo stesso Maretto adesso sarebbe un peccato secondo me la scelta questa qui è quella giusta secondo me bene Giovanni allora ti passo la palla se ci sono già delle domande iniziamo subito un attimo un'informazione tra i spettatori sono in vendita i biglietti su Iva Ticket WL Pro di Sport e presso la biglietteria della Vitri Frigo Arena dalle ore 16 di domenica la conferenza stampa di Coccio Emeo Sacchetti domani alle ore 11 in diretta sui social della WL ci arriva un commento una domanda su Facebook Alessandro da Firenze Luca alla luce degli ultimi risultati Andrea Cinciarini secondo te è un play che veramente serviva in quel momento alla nostra squadra ma guarda noi è lì abbiamo avuto un problema col playmaker che non ha reso come noi ci aspettavamo cioè Ray McCallum nella nostra idea doveva essere un giocatore molto importante e non ha reso noi avevamo bisogno assolutamente di un playmaker che riuscisse a rendere tutti quanti migliori infatti appena arriva Cinciarini comunque con Pistoia la portiamo a casa con Varese è vero che abbiamo perso eravamo più 15 in controllo poi c'è sfuggita la partita ripeto però comunque avevamo fatto fino a quel momento una bellissima partita poi si è fatto male Scott secondo me l'infortunio di Bamford ha influito anche sul gioco un po' di Cinciarini perché avere due punte due creatori uno con molto tiro da fuori uno con altre qualità può essere importante quindi risposta è sì avevamo bisogno di Cinciarini siamo contenti di avere Cinciarini da tutto per la squadra un pesarese in più a noi che anche un buon feeling col pubblico ci serviva e quindi sicuramente avevamo bisogno di Cinciarini e abbiamo bisogno di Cinciarini io tra l'altro sempre l'altra sera l'ho visto fare sempre canestro da fuori quindi alla fine ci siamo salutati gli ho detto ma questi tiri in partita li vogliamo mettere e ho capito che forse anche a 37 anni si può essere emozionati per il fatto di essere tornati a giocare a casa e di voler dare magari più di quello certo penso che sia più difficile per lui giocare a Pesaro che in altre piazze e quindi sicuramente è difficile questa cosa del tiro è una richiesta proprio di Meo che vuole che lui comunque si prenda i suoi tiri io ricordo che lui ha fatto anche annate ad esempio a Reggio Emilia con Caia dove tirava con il 40% di solito quando veniva qui li metteva sempre una delle ultime che ha giocato con Reggio Emilia mi ricordo tre bombe tranquille quindi Cinciarini può tirare deve tirare poi ovvio che le sue qualità il suo modo di fare assi il suo modo di creare per i compagni è il suo gioco principale insomma assolutamente un'altra cosa allora Bob se ti ricordi ci arriva questo messaggio da Giuseppe Barbarese di Fossombrone furono tanti pullman c'è scritto il numero non lo leggo perché è la risposta centinaia di auto a seguito nei tiri di riscaldamento Joe Pesaro non fece neanche un canestro neanche sue entrate incredibile ti ricordi questo ricordo? questa cosa no sinceramente mi è sfuggito ero più concentrato su quello che facevo io sinceramente no anche perché poi era come non so un cielo nuvolo non si sa da un momento all'altro può diventare sereno niente non si capiva cosa potesse fare quindi era anche inutile guardarlo lo vedevi in campo quello che faceva quindi non era non è che per favore ridici quello delle mani in tasca prima che ci hai fatto troppo divertire niente che era molto freddo il vecchio palazzo dello sport quindi una penso che sia stato a gennaio o febbraio lui il riscaldamento mise le mani dentro le tasche della tuta e faceva il riscaldamento con le mani dentro così faceva il riscaldamento in questo modo prendeva la palla così perché sentiva freddo questa era una delle tante cose immagino l'allenatore come sarà stato capirai però dai c'è dato delle soddisfazioni assolutamente ancora ne parliamo dopo tanti anni vuol dire che è stato uno dei giocatori indimenticabili ho una domanda per te e una per Luca inizio con quella per te perché secondo te la società non ha fatto giocare abbiamo dovuto aspettare metà del campionato il grande Maretto ora si è aperto è stata una scoperta non è meglio a inizio stagione fare una squadra puntando su otto giocatori forse due giovani come lui allora io quello che penso perché non alleno e quindi però immagino che un allenatore nella teoria vorrebbe far giocare tutti e magari anche Buscaglia l'ha visto perché non credo che avesse il prosciutto sugli occhi a proposito di Carpegna però poi il timore che un ragazzo possa non essere all'altezza che possa sbagliare inizia a perdere qualche partita il pubblico senti che rumoreggia così hai timore magari di buttare in campo un ragazzino pensi che potrà sbagliare pensi che magari si potranno perdere delle occasioni se dai minuti non lo so Meo arrivando con meno pressione perché alla fine la squadra non l'ha fatta lui gli errori di mercato non li ha fatti lui ha visto sto ragazzo che gli piaceva e ha detto proviamo a buttarlo e vediamo cosa succede ha reagito bene magari la volta dopo lo ha confermato non so Luca se no ma guarda Maurizio ha sempre avuto grandissima fiducia sia in Stazionelli che in Maretto tanto è vero che gli ha voluti come decimo e undicesimo indipendentemente da chi era il decimo e l'undicesimo quindi e so anche che si è impuntato perché a un certo punto avevano delle richieste e lui non ha avuto certo ma infatti tanto è vero se noi ce li abbiamo dentro è anche merito di Maurizio che ha parlato con i ragazzi con i procuratori così perché loro avevano diverse proposte quindi non usciamo da qui dicendo che era Maurizio poi che non li faceva giocare o che non aveva fiducia perché assolutamente è un'idea completamente sbagliata e secondo me c'è anche un'idea di questi giovani comunque di non bruciarli l'hai detto un po' fra le righe te cioè metterli in campo quando sono realmente pronti per far qualcosa perché se li metti in campo che ancora non sono pronti ti dico Maretto e Stazionelli comunque hanno lavorato tantissimo e sono migliorati quindi diciamo che all'inizio non erano così pronti e magari anche l'idea di Maurizio era non bruciarli subito non buttarli a caso allo sbaraglio anche quando e su questa sono un'idea la penso come Maurizio quando le cose andavano male non è giusto mettere in campo il giovane e far pagare ai giovani il fatto che stai giocando male quindi ci sono un po' di discorsi diciamo Certo Luca McDuffie forse toglierà minuti a Ford e Blue Yet questo potrebbe creare competizione tra di loro e forse motivarli e sicuramente potranno dare molto di più Sicuramente c'è un giocatore in più c'è un giocatore in più quindi da qualche parte i minuti vanno presi io reputo sempre la competizione interna fondamentale e ti dico anche l'anno scorso quando ci mancò il 4 così vedevo un po' ad esempio Cittam che si era un po' rilassato nella scuola quindi io sono un fans sono ripesiano per questo cioè io voglio avere 10 giocatori e ci si gioca al posto dal martedì al sabato ci si gioca al posto e i minuti in campo poi però bisogna gestirli bene i giocatori devono avere tutti fiducia e non è così facile quindi c'è un giocatore in più può creare problemi perché qualcuno potrebbe diminuire i minuti però da un altro punto di vista se vedete anche le nostre ultime partite abbiamo fatto pochi falli cioè sia Napoli che Milano abbiamo fatto pochi falli però avevamo pochi giocatori adesso cioè essere battuti in uno contro uno senza fare fallo cambio tagliamo questo si può pretendere di più si può pretendere assolutamente bene allora adesso spostiamo un attimo l'obiettivo sui nostri tifosi perché questa è anche la loro domenica io penso che un fattore campo a favore in una partita come quella con Brindisi potrebbe pesare tanto questa è una delle foto della curva quindi sono state settimane un po' turbolente Luca con anche qualche striscione con cui i tifosi hanno manifestato il loro dissenso la loro amarezza ma penso che venga sempre dalla grandissima passione perché uno diventa deluso quando rimane male e non quando non gli importa niente se l'indifferenza sarebbe molto peggio ecco dopo cinque sconfitte consecutive è normale che la piazza rumoreggi quanto pesano dentro lo spogliatoio le aspettative dei nostri tifosi guarda i tifosi sono importantissimi i tifosi di Pesaro sono basta guardare le statistiche sono al terzo posto in Italia e sono veramente numerosi sempre con Milano ti dico il colpo d'occhio era anche domenica è stato super veramente il nostro pubblico può trascinare la squadra è ovvio che deve avere sentimenti positivi deve avere energia e quindi per la partita di domenica quello secondo me è molto importante che il pubblico porti dentro sai quando io parlo con gli allenatori che vengono come Maurizio noi tiriamo sempre fuori questa parola la tigna per spiegare un po' quello che ha peso e allora domenica bisogna tirare fuori la tigna in campo e fuori e questo è molto importante bisogna entrare domenica al palazzo tutti con sentimenti positivi e avere la tigna dentro fuori dentro perché vi assicuro che i brusì così alla squadra un po' disturba anche se poi i giocatori devono giocare è ovvio che un tifoso che si perde si sta perdendo un po' troppe partite quindi il tifoso rumoreggia perché è così il nostro lavoro è vincere è tutto bello perdere è tutto negativo però domenica dobbiamo un attimino aprire una piccola parentesi andare lì tutti con la tigna non spazientirci all'inizio della partita questo è uno dei difetti del pubblico di Pesaro che a volte a Pesaro purtroppo no purtroppo fortunatamente sono tutti competenti la palazzo la conoscono quindi sanno vedono ma secondo me i giocatori devono dare l'esempio anche buttarsi su un palone come dicevamo prima un rimbalzo una gomitata che era il limite al pubblico io parlo anche da tifoso perché io sono 25 anni che faccio l'abbonamento quindi le vedo le parti e sento i commenti anche se sbagli un canestro poi però vedi che uno si butta difende la tigna la gente viene trascinata a questa cosa qui quindi l'attesimento dei giocatori può dare una mano ai tifosi i tifosi a loro volta daranno la mano agli giocatori e questo io penso che sia la cosa infatti la domanda che ti avrei voluto fare una volta eri dentro il parquet adesso che sei sugli spalti o anche sei in panchina con il Loreto ma lì il pubblico non è non è come qua quanto conta in una partita l'incitamento veramente può essere una spinta così decisiva oppure i fischi o le contestazioni possono deprimere dopo dipende anche dai caratteri giocatori perché magari il fischio qualcuno lo disturba l'altro non gli importa niente quindi però però serve serve sicuramente un clima caldo che ti incita che ci sostiene aiuta tantissimo e quindi quindi sicuramente domenica ci sarà bisogno anche dell'aiuto del pubblico e come dicevate voi prima è logica che dopo cinque sconfitti la gente è un po' spazientita però in questo caso bisogna voltare pagina e pensare a quello che verrà domani a quello che potrà essere il futuro perché il passato è storia e come dice nei mulini ad acqua non macchina più l'acqua che è passata non macchina più qui è uguale qui bisogna pensare nello sport fortunatamente bisogna guardare avanti e quindi la partita più importante è quella di domenica e quindi ci sarà bisogno anche della gente che aiuti la squadra Comunque quello che diceva Roberto secondo me è veramente essenziale cioè quando tu vedi che ti sfugge il rimbalzo per quattro volte anche quando ce l'hai lì o una palla vagante non arrivi mai per primo cioè sono queste le cose che magari un po' dispiacciono come se i giocatori non ce la mettessero tutta non lo so oppure magari è davvero una questione di posizionamento anche a volte come ti dicevo prima ci sono tantissimi fattori così però diciamo che il pubblico di Pesaro io l'ho visto anche quando allenavo le giovanili così c'è un modo di giocare pesarese diciamo che la gente si identifica e la gente vuole vedere quella cosa lì in campo quindi cioè i tuffi dei giocatori queste cose qui sono determinanti per un pubblico come il nostro perché poi una volta che accendi il pubblico abbiamo questa arena bellissima grandissima che può in alcuni momenti può non fare come posso dire un effetto che non c'è l'effetto caldo come a Pistoia però una volta che vai poi ti trascinano certo perché comunque il pubblico è competente ma veramente i tifosi appesano penso in una città di 90.000 abitanti e avere così tanto il numero di presenza al palazzo sono i numeri infatti prima quando dicevi il terzo pubblico sì però bisogna confrontare poi le città 2.000 abitanti in Milano 800.000 a Bologna e 90.000 pesa il terzo pubblico rispetto a due una metropoli e una semi metropoli insomma è quella poi con budget anche differenti con budget anche differenti magari uno andare a vedere una squadra con 40 milioni di budget e andare a vedere un'altra con un altro uno zero in meno che vuol dire infatti anche qui dovremmo riuscire a capirci perché magari si dice ok paghiamo di più l'abbonamento però dateci dei giocatori migliori ok potrebbe essere un ragionamento interessante perché è vero anche che siamo il terzo pubblico come presenze ma sicuramente non come incasso gli abbonamenti di peso sono tra i più bassi che ci sono nella serie A e quindi anche questo non aiuta magari no però se alziamo troppo i prezzi poi non si possono proporre certi tipi di giocatori bisognerebbe alzare poi il livello bisognerebbe tentare è una coperta a cuore è vero ti sentieri da una parte e ti scopri dall'altra come dice il buon Thomas Nobili che ci sta seguendo il sesto uomo in campo ce l'abbiamo qui a Pesaro e ci senti tutte le domeniche Picio Facendo l'altra volta ha cambiato ha detto che Pesaro è il primo uomo in campo il pubblico non è il sesto quindi domenica mi raccomando il primo uomo in campo io posso fare una richiesta ai tifosi arrivate un po' prima cioè era così bello il vecchio Palace quando la squadra entrava il palazzo era già pieno e i cori erano già partiti cioè invece adesso quando entra la gente mangia i popcorn quell'altro mette giù il cappotto qualcuno sta ancora in fila fuori che deve entrare a pari da già iniziare uno deve cercare il parcheggio cioè capisco che non è uguale perché al vecchio Palace arrivava a piedi in bicicletta bisognava andare a prendere i posti perché le gradinate non erano numerate quindi mi ricordo io facevo anche io le corse per andare a prendere poi i giocatori vedono anche durante il riscaldamento io l'ho detto una trasmissione dell'anno scorso perché ero venuto dopo la trasferta di Verona dove erano arrivati questi tifosi i nostri tifosi che avevano fatto un grandissimo casino e io che sono quello che conduco il riscaldamento pre partita l'ho dovuto praticamente interrompere perché tutti guardavano questi tifosi che erano entrati lì erano arrivati molto presto hanno cominciato a far casino e sai tutti guardavano i nostri tifosi cioè arrivare prima assicuro che loro anche durante il riscaldamento li vedono e si caricano anche da lì beh certo in trasferta è più semplice farci sentire perché chi va è estremamente motivato si è fatto il viaggio quindi mentre a Pesaro magari sai comunque questo palazzo un po' ha cambiato le abitudini però non è vero che non è mai successo niente di bello dentro questo palazzo chi lo dice non è onesto intellettualmente perché dal 96 in cui è stato aperto abbiamo visto a fior di giocatori abbiamo giocato anche l'Eurolega abbiamo fatto anche lo si chiamava l'Eurolega allora io mi ricordo due semifinali con il Maccabi mi sembra no? quindi c'è stato c'è stato ci siamo divertiti per molte annate poi ci sono state anche degli anni ma anche il playoff con la Virtus di due anni fa mi sembra esattamente che abbiamo ce la siamo giocata con Milano abbiamo vinto uno scorso la terza ma anche il periodo di De Marco Booker anche lì ci fu una semifinale Scudetto non solo con Daniel Hackett e Hickman quindi ci sono stati dei momenti anche esaltanti anche dentro l'astronave abbiamo visto Alfonso Ford abbiamo visto Charlie Smith io mi ricordo una partita con la fortitudo la stagione regolare 9.000 persone quindi non so quante altre città possono vantare un'affluenza del genere per partita regolare della regola tu porti 6.428 spettatori in una partita contro l'Armani che sapeva già come andava a finire pensa quanti ne potresti portare se potessi pensare almeno di essere competitivo ecco poi dopo vince lo Scudetto ormai con i budget di Armani e Segha Freddo è difficile però comunque le cose possono sempre cambiare magari da questa annata se viene fuori una salvezza sofferta qualcuno potrebbe dire quello che disse quella volta Scavolini a Palazzetti basta non vogliamo più soffrire così certo potrebbe essere un'occasione certo e parliamo allora della classifica se Andrea puoi mettere il cartello della classifica di Serie A guardiamola un attimo insomma fa un po' paura questo 14esimo posto in coabitazione con Treviso con i quali però siamo in vantaggio perché all'andata si vinse anche piuttosto largamente bisogna andare a giocare là mi sembra bisogna andare a giocare là il 30 marzo ma a questo ci penseremo una roba alla volta adesso è il momento di chiudere la porta diciamo alle speranze di Brindisi che comunque 4 punti sotto ha perso in casa contro Pesaro all'andata vincendo diciamo vi portereste a 6 punti di vantaggio con il 2 a 0 cioè praticamente sarebbe finita per loro per loro sì ma io questo volevo chiederti Luca il fatto che Treviso vi abbia riagganciato in classifica ha aumentato la pressione sulla partita di domenica oppure i giocatori riescono a non pensare a questo ma secondo me non ci pensano cioè sia noi come staff sia i giocatori sono molto cioè pensano a Brindisi a come poter superare Brindisi non è che si guarda o c'è la pressione del fatto che Treviso abbia vinto o altro cioè la concentrazione è tutta per preparare una buona partita per cercare di fare gli allenamenti che ci servono per cercare di vincere quindi da questo punto di vista tanto sappiamo gli ultimi anni la classifica è sempre stata corta quindi si vince tre partite si finisce 4-5 posti sopra e se ne perdono tre quindi bisogna cercare di vincere più partite possibili e basta poi i conti dipendono anche dagli altri quindi si fanno la fine rimettiamo un attimo la classifica Andrea perché volevamo dare un'occhiata anche alle altre ecco secondo voi Varese a 12 è ancora coinvolgibile nella lotta salvezza Banco di Sardegna che ha appena esonerato Piero Bucchi Bertram Tortona che comunque ha giocato finora una stagione al di sotto poi lasciamo perdere con gli a 16 però poi andiamo troppo avanti però ecco c'è qualcuno che si può ancora tirare giù secondo voi oppure no? a patto che vinci domenica sicuramente se no è inutile guardare devi vincere poi dopo fai i conti quindi è imprescindibile la vittoria di domenica è imprescindibile quindi come diceva Luca giustamente devi vincere le partite possibili poi i conti le fai la fine noi li calcoli le tabelle c'è una natura che non le volevo neanche vedere neanche sentire le partite si vincono e basta poi poi alla fine si fanno i conti è difficile dire quella la prendiamo quell'altra la prendiamo tante variabili ci sono i risultati poi è un campionato molto competitivo quindi puoi vincere e perdere con chiunque ci stacca a un certo punto fai sei sconfitte di file e ti ritrovi invischiato in fondo quindi ti ha sorpreso bisogna se vi interrompo ma in questo momento è uscito un comunicato stampa di Umberto Stazionelli colpo della Brianza casa basket è assicurato dalla VL Pesero vincitore classe 2004 welcome Umberto Stazionelli comunicato stampa quindi va in prestito momento scusatevi un attimo se vi ho interrotto allora adesso Luca io ero una cosa che avevo sentito ieri girava questa voce raccontaci no nel senso poi il ragionamento di Umberto è partito l'anno come decimo in questo momento prendendo un giocatore in più Umberto finiva praticamente e con la crescita esponenziale di Maretto finiva un po' come dodicesimo e sinceramente non si meritava di fare il dodicesimo e la sua richiesta era stata quella di giocare ma era una richiesta sua e anche nostra cioè di andare a giocare ha avuto questa opportunità di andare a giocare in B in B nazionale in una squadra che comunque vuol giocare per vincere Dov'è la squadra scusami Brianza sarebbe Sarebbe Bernareggio e la chiamano Ok ok Pensi che sia una cosa perché guarda io ho notato quando me ho dato spazio a tutti e due Maretto se l'è cavata anche in maniera molto furba astuta già Stazonelli magari ha preso una stoppata cioè nel senso si vedeva che gli mancava quell'abitudine a giocare con la gente più smaliziata quello che ho detto prima secondo me Maretto è un po' più più pronto più smaliziato c'è un po' più ruolo negli esterni Umberto è un giocatore molto interessante perché è una guardia di due metri quindi con grandissime dote fisiche però per il suo gioco io lo vedevo anche l'anno scorso quando abbiamo fatto un grandissimo lavoro con lui facendo anche poi magari la domenica non giocava ma durante la settimana si faceva sempre un lavoro con lui lui secondo me ha fatto tantissimo lavoro fisico e tantissimo lavoro di fondamentali individuali migliorare il suo tiro migliorare i movimenti ma poi bisogna mettere in campo la domenica io questo sono una cosa che c'è proprio i giovani devono giocare se no fa un fatica e quindi in bocca al lupo Stazzo così magari ti riavremo più pronto magari l'anno prossimo allora Giovanni sei altre domande vai pure stavo vedendo un messaggio che ci è arrivato due minuti fa da Tiziana Tiziana da Ponte Ricerta aspettiamo il pronostico domenica vinciamo bene giocando bene voglio essere fiduciosa prevedo un 73 a 57 per la UL adesso me lo segno no perché questa Tiziana è un'amica che ha indovinato il risultato di Pistoia quando tutti dicevano che saremmo andati a perdere e quindi adesso gli richiediamo il pronostico tutte le volte giusto ben augurante ci arriva da Mauro da Serro Ungarina un messaggio una domanda per Luca gli allenamenti con Meo Sacchetti come si svolgono? è prevista molta parte atletica durante la mattinata? ma guarda gli allenamenti con Meo sono innanzitutto sono molto divertenti adesso dico dove con Meo si sta veramente bene c'è un clima di serenità è uno che vuol trasmettere grandissima fiducia ai giocatori e riesce sempre a trasmettere grandissima fiducia ai giocatori non gli sta troppo sopra o diciamo che venendo dal campo così si vede che c'è molto l'indole del giocatore capisce i giocatori rimprovera poco ho notato se uno sbaglia un tiro lui ha lui ha dei suoi dogmi così che lui dice sempre è una frase che ripete sempre meglio un tiro di una palla persa giusto e tiro sbagliato meglio un tiro sbagliato meglio un tiro sbagliato che una palla persa che perché la palla persa ti crea due punti contropiede così come abbiamo subito anche con Milano lui dice mai rinunciare a un tiro c'è rimbalzo e comunque puoi prendere rimbalzo in attacco sul tiro sbagliato comunque bilanci dietro per la transizione difensiva quindi diciamo che se uno sbaglia un tiro lui non lo vedi mai anzi se uno sbaglia un tiro lui è lì a darti fiducia buon tiro buon tiro così gli allenamenti sono si corre si corre si corre c'è tantissima competizione perché facciamo sempre queste partite anche a obiettivo con degli obiettivi tecnici così però i giocatori stanno bene corrono stiamo aumentando la nostra condizione punti derogativo ma sai poi quando migliori la tua condizione migliori anche la difesa lui in difesa è stato con lo staff lui è venuto ha detto voi fate troppe cose in difesa facciamone meno ma facciamole bene quindi anche sulle scelte difensive lui ha un po' semplificato le scelte difensive si fanno quelle ma dobbiamo farle bene poi ha aumentato secondo me la responsabilità individuale sulle varie cose che comunque in difesa c'è il lavoro di squadra ma c'è anche il lavoro di responsabilità individuale che lui vuole migliorato e quindi dai queste tre settimane adesso sta finendo la terza settimana insomma abbiamo fatto ottimi allenamenti ok ci mando un messaggio Diego Terenti grande Bope grande Luca Pent un saluto a tutti e due zio ciao sono Claudio una domanda per Luca tornando al discorso di competizione tra i giocatori Tambo secondo me in questo momento ne sta risentendo l'anno scorso con Gudmundson e forse quest'anno con Cincia e così forse ne sta un po' risentendo allora Tambo sì non sta giocando diciamo noi qua l'abbiamo visto anche fare delle grandi partite delle gran parti di stagioni quindi non è che dico che adesso non è quel giocatore però non sta non sta facendo partite come ci aveva abituato però non ha nessun problema cioè non ha nessun problema io sono convinto che Tambo con la sua modo di giocare con la sua con i suoi canestri comunque da un momento o l'altro ritornerà fuori a aiutarsi a vincere le partite allora se domani siete curiosi leggetevi l'intervista che gli ho fatto oggi così saprete cosa pensa Tambone e come anche ha spiegato il suo periodo nervoso lo ha descritto così lui ha detto ero un po' nervoso però adesso mi è tornata la faccia giusta e quindi vediamo che secondo me avremo di nuovo Matteo che conosciamo Matteo per noi è importante e ti dico anche nell'idea di non prendere una guardia era anche uno rientrava Scott e comunque noi Tambo Isco e comunque un Blue Yet che ti può andare a giocare anche come guardia per avere un po' di fisicità cosa che noi andiamo sotto con chiunque abbiamo fiducia di tutte le nostre guardie bene bene allora adesso è il momento di parlare un po' della partita con Brindisi andando a vedere gli highlight della partita che la Epic ha giocato con Napoli sono stati davvero sfortunati infatti bisogna anche dire questo allora sono ultimi hanno vinto solo tre partite però ne hanno perse tante all'ultimo tiro o comunque all'ultimo possesso quindi vuol dire che è una squadra che se le gioca tutte al contrario nostro perché invece noi abbiamo perso tante partite negli ultimi tempi insomma anche prendendo degli scarti infatti poi la classifica non sempre rispecchia rispecchia le prestazioni in campo Brindisi ha perso tre partite di cui questa ha all'ultimo possesso cioè con la palla per vincere in questo caso ha perso un pallone ma anche a Tortona e a Sassari ha fatto la stessa cosa e poi ha vinto delle partite con Brescia con Bologna ha vinto tre partite ma le ha vinte contro squadre abbastanza importanti è una squadra di grandissimo talento ha tantissimo talento negli esterni tra cui Bartley che è il capocannoniere dell'anno scorso che hanno aggiunto importante Sengling che l'anno scorso aveva fatto una grandissima parte di stagione con Reggio Emilia portandolo alla salvezza e Jamel Morris che è un giocatore che viene dall'Euro Cup certo che questa bomba qui di tabella però li ha ammazzati è stata una partita che poi noi abbiamo visto molto bene che ci sono state tre bombe di tabellone ma domenica con quella di Maretto penso di aver visto più partite con bombe di tabellone però il tabellone c'è quindi dalla fine Brindis era ancora avanti di uno ha subito prima la tripla di Pullen e poi ha perso palla e Pullen poi ha chiuso e c'è Pullen comunque uno abbastanza abituato a fare canestri importanti quindi ma quali sono i problemi secondo te della Epi Casa ancora adesso che però è tanto diversa da quella che noi abbiamo battuto all'andata completamente diversa all'inizio loro hanno fatto un po' di scommesse si aspettavano molto dal lungo che adesso hanno Rishish che è andato a giocare in Israele Johnson ha avuto seri problemi fisici secondo me non hanno trovato mai ritmo poi sono andati a cambiare tanti giocatori ancora non hanno trovato quella chimica quella amalgama secondo me che è necessaria per vincere le partite speriamo che non la trovino domenica quindi siccome i tesseramenti scadono domattina alle 11 presumo a meno che non abbiamo trovato qualcuno mentre noi stiamo facendo la trasmissione che vengano senza un americano nel ruolo di l'americano non lo possono prendere perché loro hanno finito i visti quindi nel caso sarebbe un comunitario o uno già avvistato vediamo è anche vero che un comunitario se lo firmano adesso tardo mattina alle 11 lo possono mettere in campo perché il comunitario il più facile è firmarlo rispetto a uno che deve prendere il visto vediamo vediamo chi giocherebbe nel ruolo di Wawan Johnson quindi Bayer giocherebbe e poi potrebbero anche giocare small ball quindi piccoli con Lazzeschi da numero 5 e Sneed da 4 e quindi giocare piccoli Sneed e Sengling che non c'erano all'andata sono due bei giocatori sì sì due bei giocatori ma loro presi singolarmente sono veramente ottimi giocatori e anche giocatori che hanno avuto anche una bella carriera quindi individualmente ripeto ancora non hanno trovato una quadratura di squadra di squadra se no a livello di talento individuale ne hanno tanto senti Roberto dicevamo appunto potrebbe essere l'ultima spiaggia per Brindisi però a volte si dice che giocare in trasferta queste partite potrebbe essere meno pesante ma secondo te è davvero così oppure no? sì anche ma dipende dall'attesamento che avremo noi da come entriamo in campo da prima pallone da come la mettiamo subito sul binario che vogliamo noi però ecco con tanti americani con tanti giocatori non sai mai non hai non hai mai una certezza su come può andare una partita sicuramente gli americani prima voi parlavate di salvezza molti americani quando parli di salvezza non riescono a rendersi la salvezza cos'è mi dicevo cos'è la salvezza è che non vai nella serie inferiore quindi giocano anche più leggeri sicuramente quindi è difficile pensare capito che vengano qua con la pressione loro giocano le partite poi sicuramente possono fare speriamo di no la partita magari della stagione ma io ho molta fiducia speriamo che la facciano i nostri esatto la facciano i nostri senti Roberto una piccola parentesi anche per il Loreto tu sei vice allenatore della squadra costruita da Lorenzo Pizzo per tra vincere il campionato ma anche qui non è facile non è facile però siete risaliti tanto adesso noi noi presi singolarmente abbiamo un ottimo gruppo però dobbiamo essere un'ottima squadra la cosa non è così matematico non è che non è come la matematica più due fa sempre quattro qui bisogna fare mettere le cose a posto la chimica di squadra gli giocatori una squadra completamente nuova è vero che sono passati tre mesi poi adesso sta finendo la prima fase c'è una seconda fase andiamo a incontrare le squadre romane quindi anche a giocare contro di loro di là che hanno un budget c'è la Virtus Roma ma anche a giocare in Serie A quindi adesso vedremo la fine anche qua come andrà ci siamo ripresi perché abbiamo perso purtroppo sabato e domenica a Senigallia una partita che avevamo condotto quasi sempre un minuto e mezzo alla fine eravamo più sei e siamo riusciti a perderla purtroppo però ha dato comunque dei buoni dei buoni responsi abbiamo giocato bene ecco il rammarico da averla persa però abbiamo giocato bene però quest'anno è divertente con tre squadre già l'anno scorso Bramante e Pisaurum adesso anche il Loreto comincia a esserci un po' di fermento c'è anche rivalità perché fra le varie fazioni il Bramante è più strutturato perché c'è un settore giovanile alle spalle dovuto anche ai giocatori tagliati dalla VL il Pisaurum più diciamo è una squadra che ha un budget più basso quindi riesce a fare ha fatto un ottimo campionato fino adesso con quello che ha ha fatto un buonissimo campionato noi siamo quelli che sulla carta dovevano vincere il campionato ancora non è detta perché deve finire sicuramente Lorenzo ci ha messo dei soldi ci ha messo delle idee vuole arrivare però vedremo vedremo dove arriveremo bene in bocca al lupo a tutti anche perché avere una squadra in serie B a Pesaro secondo me sarebbe importante anche perché alcuni giovani ecco come Stazonelli invece di andare a Brianza potevano giocare magari qua e averlo sott'occhio anche per voi ma poi per un pubblico appersonato come il Pesarese magari una squadra di B o eventualmente di A2 perché no perché una domenica c'è la VL l'altra domenica c'è l'altra squadra potrebbe essere come quando c'era la Falco esatto la Scavolini la Falco la EO che faceva la B2 ci manca però un palazzo in città perché anche qui i pesaresi sono pigri non ci vengono al Paladino perché è lontano ma quello che mettono a posto là il vecchio Palace cosa che fine farà adesso lo sapremo il 29 febbraio quando il comune inaugurerà finalmente e svelerà i progetti che avrà su questa nuova struttura sarà credo soprattutto un auditorium per la musica almeno i progetti sono questi per conferenze per così potrebbe essere una buona casa per le squadre diciamo fra virgolette minori di Pesaro come Capienza magari ecco non avrà 2.000 3.000 posti 2.500 quindi per una VL non può andare bene mentre per squadre come la nostra come Bramante come Pisano potrebbe essere una soluzione però dipende da cosa vogliono fare i nostri amministratori lo sapremo presto Giovanni ne hai altre domande su Schilling un velo pietoso lo stendiamo secondo te ormai non ci ricordiamo neanche più come è Mocchevicius in questo momento secondo te Bob di chi è la domanda ci arriva da Riccardo allora secondo me io mi ricordo di tre anni fa mi ricordo un giocatore che è stato fondamentale per la salvezza un giocatore che era sempre in doppia cifra sia ribassi che punti quest'anno ho visto giocare un paio di volte l'ho visto all'inizio quando è arrivato ancora era un po' fuori forse dai giochi un po' fuori forma forse adesso lo devo ancora vedere sicuramente non è quel giocatore là speriamo che ci dia comunque un contributo importante per vincere per vincere le partite che dobbiamo vincere ecco sicuramente è un difensore un roccioso è uno un agonista non è non è uno che ti può far 30 punti però può essere utile anche lui per la causa finale sicuramente assolutamente tu meglio Meo Sacchetti o Buscaglia questo è un po' pesante no non posso rispondere assolutamente io ti dico nella mia carriera d'assistente ho vissuto tantissimi capi allenatori perché anche con gli esoneri ne vivi due e con tutti mi porto dietro tante cose aspetti positivi e faccio fatica a dire male di di qualcuno di capo allenatore anche quando il capo allenatore viene esonerato comunque paga lui per tutti però è una responsabilità dei giocatori è una responsabilità dello staff è una responsabilità di tutti quindi non non potrei mai dire niente contro Maurizio che è stato super ovviamente meo adesso è arrivato non da tanto tempo ci stiamo trovando benissimo lui stesso si sta trovando molto bene con la città con l'ambiente anche se ha avuto qualche discussione qualche scherzio però però si sta trovando molto bene anzi ci ha sorpreso perché stamattina lì prima dell'anamento ci fa ragazzi vi devo dire non non pensavo ma mi sto trovando molto bene quindi dai adesso bisogna vincere le partite se volete conoscerlo un po' meglio comunque c'è un libro che il suo editore mi ha mandato appena è stato ingaggiato da Pesaro si chiama il mio basket è di chi lo gioca ed è veramente interessantissimo anche perché meo ha avuto un'infanzia che poi magari quando verrà qui gliela faremo raccontare difficilissima incredibile nato in un campo profughi una cosa ha sofferto molto quindi l'ho scoperto ecco come personaggio non sapevo di questa cosa e mi ha così mi ha colpito perché comunque anche l'aspetto umano delle persone che vengono a lavorare alla VL è importante infatti cerco sempre anche di conoscere i giocatori americani la loro storia da dove vengono come sono cresciuti perché vuol dire tanto poi anche per come si relazionano con la città con la gente con il pubblico quindi se volete scoprire qualcosa in più di me o c'è un libro che racconta la sua vita ecco allora adesso invece domani alle ore 13 ci sarà il vlog di Riccardo Visconti e domani sera invece si va in un probabile sold out sono molto vicini l'Olimpia Milano contro il Barcellona una partita molto dura dove domenica invece tutti al Palace per sostenere la nostra squadra andiamo alla Vitri Frigo Arena per incitare i nostri ragazzi e per favore lasciamo da parte tutte le critiche fino alla fine Forza VL Max da Pesaro ok allora adesso facciamo un salto all'indietro di tantissimi anni riportiamo Roberto in campo praticamente insieme a il suo compagno di reparto americano negli anni 80 c'erano solo due americani quindi tu hai giocato con Joe Pace nel 79-80 gran personaggio ma anche nell'80-81 hai giocato con Rusuel Bui che adesso andiamo a ricordare nel nostro album dei ricordi la capigliatura strepitosa anni 70 che adesso gli americani portano quasi più i cappelli così era nato a Kendal nello stato di New York il 21 gennaio del 58 giocò due stagioni a Pesaro guardate qua che salto dall'80 all'82 per un totale di 73 partite compresa una finale scudetto la prima nella storia della VL persa come dicevamo prima 2-0 contro Milano quando le partite di scudetto si giocavano al meglio delle tre suscitando grandi rimpianti perché quella scavolini aveva giocato una grande stagione regolare dominandola contro anche Fabriano mi sembra dalle maglie è vero arrivò a Pesaro appena uscito dal college la prestigiosa Syracuse University ma giocò con un'efficacia tale sin dal primo anno da non sembrare proprio un rookie scelto al secondo giro del draft dai Dallas Mavericks con la 34esima chiamata però non giocò mai nell'NBA sviluppando la sua intera carriera in Europa prevalentemente in Italia mastodontico pivot di 2 metri 11 per 102 kg era un rimbalzista tremendo e col passare degli anni diventò anche un discreto intimidatore dopo gli anni di Pesaro passò a Reggio Emilia dove rimase ben sette stagioni cosa rara per uno straniero imparando alla perfezione l'italiano che ancora usa fluentemente qui è il ritorno a Pesaro all'Old Star Game dove si presentò con una parrucca che poi lanciò al pubblico per ricordare appunto la sua capigliatura sì quindi poi due stagioni a Cantù dove vince una Coppa Corace nel 91 poi un'annata in Spagna prima di tornare in Italia a Marsala e chiudere poi la sua carriera in Svizzera nel 1994 a fine carriera ha aperto una radio in cui conduce anche programmi in città ancora si discute se fu giusto o no sostituirlo con Yerkov nella stagione 82-83 quello è stato un compito una scelta di scansi ma se ancora se ne parla vuol dire che proprio quella roba lì non è stata digerita no però io me lo ricordo era allora tu parlavi di radio la cosa che mi è rimasta ancora impresso che allora c'erano le radio quelle così lui veniva all'allenamento la mattina il radiolone sulla spalla la metteva là e si alzava il volume faceva tiro con sta radio noi tutti si guardavamo così ma questo da dove arriva era un americano che veniva però era un grande veramente un grande ragazzo una bravissima persona sì bravissima persona lui a livello collesale università era un fenomeno chiamavano lui e Or che poi era un americano che andò a giocare a Resimiglia scappò poi non mi ricordo per cosa ma erano conosciuti come Luis e Bui e Shou perché comunque sia saltavano correvano dopo lui ebbe dei problemi con la schiena probabilmente la carriera NBA non la fece perché ebbe dei problemi con la schiena miso su dalla gran spalla tanti muscoli probabilmente si era appesantito un po' troppo quindi sta cosa qui l'ha un po' frenato nella carriera NBA però qua fece una bellissima carriera una grandissima primo anno con Wilbur Holland di cui abbiamo già parlato secondo anno con Dragan Kicianovic poi dopo si decise di cambiare però avrebbe potuto giocare tranquillamente qua ai sette anni che giocò a Reggio Emilia perché era veramente un pivot incredibile anche molto serio come ragazzo Scansi fece quella scelta mentre per questioni tecniche perché comunque Jerkov era sicuramente più tecnico rispetto a lui lui era più fisico e Jerkov era un po' più tecnico quindi lui Scansi voleva questo tipo di giocatore fece quella scelta che portò comunque a Pesaro l'unico trofeo internazionale che ancora abbiamo in Bacheca che è la Coppa delle Coppe vinta nell'83 a Palma di Mallorca va bene qui stiamo rivangando in passato che fa bene ricordare molti dei nostri telespedatori magari manco erano nati però la storia la dovete sapere come quella che imparate a scuola la storia della VL qui a Pesaro conta e conta molto le radici contano bisogna sapere da dove si viene per sapere dove andare benissimo allora Giovanni c'è ancora qualche considerazione oppure vai al contest la prima vincitrice la prima quella che ha dato la prima risposta è stata Laura e ha risposto che la partita è finita 71-70 per la Scavolini e fu seguita da 77 pullman di tifosi un aneddoto vai allora 70 pari fallo su di me adesso non voglio autoreferenziarmi due tiri liberi allora c'era uno più uno sì quindi feci il primo tiro libero e sbagliai il secondo loro prendono van giù tirano due volte e sbagliano poteva essere la condanna ma invece è stato il punto che ha sparigliato se no andavamo supplementari non so come sarebbe andato a finire con parecchi giocatori fuori quindi il punto da vittoria è stato tuo il 71 è stato di Roberto Terenzi quindi ancora adesso questa foto qui mi piace ancora adesso ti siamo grati guarda un po' queste foto qui qui contro Bonamico al Vecchio Palace sì 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 e poi ce ne sono altre due questa era a Brescia a Brescia e poi ce ne è un'altra che mi piace tantissimo questo look qua da russo con il baffo questo a Rimini grazie dei ricordi molto bene allora ci siamo divertiti anche questa sera grazie mille Roberto Terenzi per la tua presenza la tua simpatia la tua competenza e a Luca per averci raccontato tante cose di quello che succede all'interno della squadra è importante anche per i tifosi sapere come si svolge un po' il vostro lavoro la vostra settimana quindi speriamo di arrivare belli carichi domenica a questa partita così importante ricordiamo uno spareggio salvezza può regalare l'adrenalina esattamente come una partita di cartello quindi non mancate domenica al palazzo io ringrazio Andrea Sabatini che ancora ci ha garantito la regia Giovanni Zidda per essere sempre puntuale su tutte le domande che arrivano da casa e noi ci vediamo il giovedì prossimo sperando di raccontarvi belle cose come dico sempre ciao 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 buonasera a tutti qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte più mi ci perdo più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così immutati ma sempre differenti pronti a rinnovarsi anzi a crescere proprio come noi cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo hai visto quante novità al Conad di Montecchio ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto sì bellissimo ormai è il mio punto di riferimento trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti per non parlare della grande professionalità del personale e ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto noi andiamo al Conad di Montecchio da più di un secolo sul territorio macchini ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili pavimenti rivestimenti parche ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza la nostra disponibilità competenza e servizio non hanno prezzo Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia macchini ceramiche sempre al vostro servizio